Diciamo che l'avvertimento quasi con tono punitivo, dobbiamo adeguarci alle regole, vediamo una settimana. Noi sostanzialmente non abbiamo fatto niente più niente di meno di quello che già facevamo, con qualche accortezza in più verso i nostri clienti, ma è stato comunque inutile. Per cui ora ci ritroviamo chiusi, è la seconda batosta che questo settore riceve. Noi in primis abbiamo già chiuso una palestra perché era troppo grossa, avevamo capito che in questo momento serviva una cosa più contenuta, dove potessimo contingentare meglio le persone. Quindi di nuovo seconda perdita, avevamo appena aperto da qualche mese, iniziavamo a farci la nostra clientiera, le cose iniziavano ad andare bene, sempre se ingressi ogni ora, quindi c'era poco di cui aver paura. Però questa è stata la decisione, un po' una macro decisione, abbiamo fatto un po' di tutta l'erba a un fascio, senza, secondo me, dati concreti alla mano. Perché se al nostro settore fosse stato dimostrato che all'interno delle palestre c'era un vero e proprio contagio, noi della palestra avremmo detto ok, ci mancherebbe, chiudiamo, non vogliamo essere portatori di un virus. Ma qui all'interno c'è del benessere, ci sono persone che hanno bisogno di venire qua perché si sentono sole, perché hanno bisogno di sfogarsi, perché hanno bisogno fisicamente di costruire una muscolatura, stai chiudendo un settore salute. Quindi è stata un po' una scelta un po' ardua, diciamo, secondo me. È passato probabilmente anche un messaggio da parte del governo di Palestro, un luogo poco sicuro, invece questo è stato dimostrato, come stai dicendo anche tu, tutt'altro. Anche per cui venivano usate tutte le precauzioni, come hai detto tu, gli ingressi, persone, un numero sempre ristretto. L'hai detto anche tu prima, eravate aperti da poco, quindi la gente iniziava anche un po' a riprendere fiducia nell'allenamento e nel ritornare in palestra. Ora, chiusura fino al 24 di novembre, è certa, la sensazione è che forse però si può andare anche oltre. Sì, diciamo che abbiamo notato un po' di sfiducia da parte delle persone più grandi. Abbiamo fatto fatica a far partire corsi con persone più grandi, che sono chiaramente più spaventate. I ragazzi felicissimi di tornare in palestra, si era creata una piccola grande famiglia, comunque voi non voi. La chiusura al 24 novembre, gli diamo fiducia, l'ennesima fiducia che diamo, ma tanto i contagi, a mio parere, non sono scienziato, non sono nulla, ma non credo che li risolverai con le chiusure delle palestre. Tenendomi aperto tutto il resto, è chiaro che i contagi saliranno alle palestre. Un messaggio anche di rassicurazione per gli iscritti, per quanto poi si ritornerà, si spera presto, ritornare ad allenarsi qua. Sì, chiaramente essendo una piccola realtà i nostri iscritti già sanno che tutti i loro abbonamenti sono stati congelati, ovviamente siamo stati costretti a farlo e li recupereranno non appena si potrà riaprire. Ecco, diciamo tutto ciò, chi vuole ovviamente potrà avere la possibilità di essere seguito privatamente attraverso altre piattaforme, ovviamente non one to one in palestra come si faceva prima, però insomma questi sono i nostri mezzi per cui vedremo.